Il robot è un alleato cibernetico che potenzia le capacità del chirurgo attraverso una maggiore sicurezza e accuratezza del gesto. Oggi utilizziamo questo alleato cibernetico per dare luogo a interventi a carico della valvola mitrale, della valvola tricuspide, in alcune condizioni di difetti congeniti e anche nella rivascularizzazione coronarica, il cosiddetto bypass. I benefici per il paziente sono rappresentati da un minor sanguinamento intraoperatorio e quindi minor richiesta di trasfusione di sangue, riduzione del rischio infettivo, una importante riduzione di quello che è il dolore. Questo si traduce in un recupero psicofisico funzionale molto più rapido.